ciao a tutti benvenuti oggi facciamo un piccolo video illustrativo in cui facciamo vedere alcuni dei modi più pratici e più veloci da utilizzare per trasformare modificare questo bellissimo accessorio che abbiamo realizzato insieme qualche tutorial fa il sciarpone se non avete ancora visto il video con il tutorial dettagliato potete cliccare qui sopra sul link a lego e consultare direttamente appunto il tutorial se invece avete già il sciarpone seguitici che iniziamo iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale